Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Brolo per far luce sul gravissimo incendio che ha distrutto nel fine settimana il Lido Blue Beach. I militari dell'arma, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Giorgio Orlando, stanno lavorando assieme alla Guardia Costiera per chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dolosa. Le fiamme hanno totalmente distrutto l'attività che era un punto di riferimento nel periodo estivo per numerosi turisti. Il rogo è divampato intorno alle ore 18 di sabato scorso e nonostante il tempestivo intervento dagli addetti ai lavori ha ridotto in cenere l'intera struttura realizzata in legno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e dalla protezione civile che insieme hanno dovuto lavorare per ben due ore. La struttura in legno è stata in pochi minuti avvolta dal rogo e le alte fiamme hanno rischiato di propagarsi anche nella piazzetta a fianco. Al momento non è esclusa alcuna pista dal cortocircuito all'atto doloso. Nell'ultime ore, secondo indiscrezioni, quest'ultima pista sarebbe quella maggiormente seguita ma al momento gli investigatori mantengono il massimo riservo. L'episodio ha procurato un forte allarme sociale a Brolo, cittadina della costa tirrenica messinese che in particolare nel periodo estivo punta molto sul turismo. Il Lido, andato in fumo, come detto rappresentava un forte richiamo per i turisti e per i residenti. Adesso bisognerà capire se gli imprenditori proprietari del sito vorranno ricostruire la struttura prima dell'avvio della prossima stagione estiva.